benvenuti in questa guida top 7 macchine da caffè automatiche di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo di onghi eletta explore ecam 452 la di onghi eletta explore ecam 452.67 g è una macchina da caffè automatica di alta qualità offre una tecnologia latte crema hot e cool cold extraction e uno schermo tft touch a colori include anche una caraffa per il caffè la macchina è facile da usare e offre un caffè delizioso ogni volta punteggio sesta posizione al sesto posto troviamo simens t 9578 per uno dq 9 plus connect la simens st 9578 per uno dq 9 plus connect s 700 è una macchina da caffè automatica di alta qualità con un design moderno ed elegante offre una vasta gamma di opzioni personalizzabili due contenitori per fagioli un macinino extra silenzioso e una potenza di 1 punteggio 75 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo gaggia velasca prestige macchina da gaggia velasca prestige è una macchina da caffè automatica di alta qualità 100 per cent made in italy offre un espresso e un cappuccino di eccellente qualità sia con caffè in grani che macinato la sua tecnologia all'avanguardia e la sua facilità d'uso la rendono una macchina da caffè ideale per tutti punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare simens ct 636 le 6 macchina per caffè questa macchina da caffè simens è una vera e propria boccata d'aria fresca è facile da usare con un design moderno ed elegante la capacità di 2,4 litri è abbastanza grande per soddisfare le esigenze di tutti il sistema automatico è molto efficiente e produce un espresso delizioso punteggio 89 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo melitta f8 3 0 1 0 1 0 102 barista t smart la melitta f8 3 0 1 0 1 0 1 0 barista t smart è una macchina da caffè automatica di alta qualità offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione tra cui la possibilità di scegliere tra diversi tipi di caffè e bevande calde la macchina è facile da usare e offre un'eccellente qualità del caffè punteggio 93 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo philips 2200 series macchina da questa macchina da caffè automatica philips è una vera e propria boccata d'aria fresca il display touch intuitivo rende facile la preparazione di un caffè delizioso mentre il montalatte classico aggiunge un tocco di stile alla tua cucina una scelta eccellente per tutti gli amanti del caffè punteggio 87 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica dionghi perfetto magnifica se cam 22 mila e 110 b la dionghi perfetto magnifica se cam 22 mila e 110 b è una macchina da caffè automatica di alta qualità con un design moderno ed elegante offre una vasta gamma di opzioni di preparazione del caffè tra cui caffè in grani o in polvere cappuccino e espresso punteggio 97 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale